BORSA DELL'ALMO L'interno, che è un pochino difficile da far vedere perché è nero ed è molto buio, è in tessuto e qui dove notate la targhetta c'è un taschino con lampo. La chiusura principale della borsa è questa lampo che scorre perfettamente. Abbiamo poi ovviamente la presenza di una tracolla allungabile, io in questo caso l'ho tenuta abbastanza corta, ma possiamo anche staccarla, ci sono i due ganci. E quindi trasformare la nostra borsa in una borsa a mano. Allora, vi dico, la pelle al tatto ha una sensazione meravigliosa, quindi è assolutamente a mio giudizio una pelle di qualità, ma è anche un lavoro di qualità. Io spero di potervi far notare le rifiniture, sono assolutamente perfette. È una borsa veramente bella, io sono rimasta colpita. Mi piace molto, mi piace il colore, mi piace la dimensione, mi piace soprattutto il fatto che la trovo adatta a molti momenti della giornata. Secondo me è perfetta sia di giorno, magari con un look un pochino più sportivo, che di sera, per una cena più carina, più romantica, ma anche per cerimonie, con vestiti importanti. Per cerimonie vi dico perché, perché le sue dimensioni sono 19 cm x 15 cm, quindi si può utilizzare tranquillamente come pochette. La sua versatilità è la cosa che mi è piaciuta di più. Allora, spero che la mia esperienza, che la mia recensione vi sia stata utile. Alla prossima, ciao a tutti da Sonia!